È proprio qui che volevo andare a parare. Adesso la trama inizierà a diventare più limpida e capirete ogni collegamento. In ogni caso Daniele è stato rapito da Khaled per mano del Ducie ed è stato rinchiuso nella sua gabbia. È passata una settimana da allora. Ecco cos'è successo in questi giorni. Sì, ti prego, sì. No, in realtà è benzina. L'ottimo messo, non lo stiamo a fare. Ciao Mario, no, dieci. Dieci, basta, non ti prego. All'attualità di facciare un ripienzo mi sentivo un cazzo, li devo, li devo. No, che prego. Che cosa vuoi fare? Fai un bel respiro. No, che cosa vuoi fare con quella muscolata? Non respiro, togli. ti prego smettila guarda che faccia abbiamo portato il pranzo mi piace il peccante così no assaggia un po no non lo so buono cosa è qui dietro? questa è la patica preferita oddio cos'è tecnici leva non ti muovere perché sei ballata? basta no 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 è divertente per un cazzo si basta 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 ti prego basta 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non posso reagire una settimana così, devo andarmene. Ho già provato a usare i miei poteri, ma qui non funzionano. Forse le catene annullano i miei poteri, o forse non lo so. Segnale, e se fosse grazie a questo che i miei poteri? Oggi vi stiamo con le cose serie. Ti metto la testa in giù, così. Dimmi dove il signore è. Caled, che coriore vuole? Caled, ti vuole il duce. Daniele, tolgo il tuo cuore. Ciao! Felice! Oddio! Caled ha lasciato la porta aperta. È l'occasione perfetta per scappare. Azz... Domani cominceremo ad andare a capire. Mi dispiace, ma devo proprio rifiuta... Di male in peggio, Sergio. E chi sei? Non ti riguarda. Non ti ho mai visto. Chi sei? Io sono Elena, adesso basta. Il grande capo mi ha solo imparicato di dati da mangiare e di medicarti. Il grande capo? Anche questo non ti riguarda e adesso devo andare. Aspetta, non è nemmeno finito di medicare. È affano. Va bene, però comunque è il duce che decide quando devi mangiare. Duce? Sembra molto fascista a casa parla. Più che fascista è... Cosa? Molto barbaro. Ma cosa ti fa il male? Ecco, lui... No, niente. Aspetta, Elena! Aspetta! Da come avrete capito, Elena è una ragazza molto difficile e fragile e sarà proprio la sua fragilità a permettere a Sergi di scappare. La sua infanzia è stata molto difficile. Da bambina il duce ha ucciso i suoi genitori per un loro losco giro di affari e si prese Elena per sé. Aspetta, di staccato e la mia ragazza... No! No! No, no! No, no! No, no! Ciao. Dio, cosa serve? Sta bene. Mangio. Impasto al giorno. Cosa ci faccio il rosso? Beh, Carlo, mi fa un'orecchia di calcio. Non fa ridere, no. Vabbè, io vado. No, aspetta! Dai, forse ai 5 minuti posso fermarmi. Però troppo a quel turno di Khaled. A proposito di Khaled, cos'è quella pillola più da sempre? Ehm, quelle pillole sono di psicofarmaci. Nel filo di qualche mese dovresti essere completamente imbazzito. Ah, questo è l'inferno. A te prendi Facebook! Beh, sì, diciamo che sono connessa al Wi-Fi del Duce. Wi-Fi, come ho detto? Potresti accedere un attimo hotspot. Eh, per cosa? Così, accedi. Mmm, ok. Ah, libero finalmente! Mi avevano detto che fossi pericoloso, ma non che fossi un mostro. Guardi! No! Aspettala! Non... Non... Non fare avvertere le guardie. Allora, io sono qui perché sono un ostacolo del Duce. Te invece vi sei molto utile. Hai detto te stessa che è una persona malvalga. Uniamo le nostre forze. Ti prego, non chiamare nessuno. Ma non posso! Nessuno riesce a uscire da qui senza avere a che fare con Twitch Man. Non so chi sia questo Twitch Man, ma non mi fa paura. E dovresti. Lui era un ostacolo del Duce, proprio come te. Mmm... Twitch Man non li elimina. Lui li usa come arma a suo piacimento finché può sfruttarli. Twitch Man è un pazzo. Risponde solo agli ordini del Duce e altri pochi eletti. Va bene. Noi intanto il problema non si deve fare. Figliati. Aspettala. È davvero spiacevole che gli altri beccati. Ancora più spiacevole il fatto che hanno il segnale tutto. Elena, per te non c'ho speranza. Venga, cosa che ti teniamo invitata era la tua stupidità. Per oggi sei solo un cagnolino. Non ti permetterò di parlarle così. Lei almeno ha preso una parte. Non commettevole doverle. Sei proprio uno stupido a pensare che io faccia questo solo per la mia fedeltà. E allora penso proprio che verrà licenziato da oggi. Terra, esci fuori. Questo posto è troppo pericoloso adesso. Schiamate. E ora rimaniamo a noi due. Azz. Sono io ad avere il coltello dalla parte del manico. In questo caso, la pistola dalla parte del manico. Si serve posso anche fare... La mani nulla. Gattolo. E infatti ha visto come chiamassai peraltro sei mesi fa al multicolio. Quella è un'altra storia. Adesso c'è un altro gatto. Azz. 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 inservibile come dici sempre te libera finalmente il tuo unico errore di calcolo è stato non accertarti che fossi morto c'è un asso loro mi sono rotto il cazzo di catturarti ora ti uccido adesso incomincerò anch'io a fare sul set dai, dico cattroia, la connessione ora balliamo i miei poteri spariscono ma la mia forza rimane sono in questi casi che... fuga vieni qua mi è andata bene mi è andata bene cazzo adesso è utile che scappare dai cazzo ce l'avrà un'arma qui dentro cazzo cazzo ho un'unica chance per vincere devo tirargli il coltello deve essere un tiro perfetto e devo centrarlo alla testa o al cuore io non non ma non non ma non non ma non ma non 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 Finalmente ho ristabilito la connessione Oggi rimane senza i poteri Ma quindi anche te i poteri Non crederti unico del tuo genere Ti lascio 10 secondi per scappare Partendo da ora 1 2 3 4 5 Che dilettante Che è successo? Ma avevo fatto 100 metri di distanza Ma che ci fai per terra? Ma come hai fatto? Di che parli? Io non sto facendo nulla Stai facendo tutto da sola Oddio! Il mio vestito! Ehi coglione Da Prendi Come hai fatto a prenderlo? Ho dei grandi poteri E altro non ti posso dire Brutto bastardo E cosa credi di farmi? Io? Ti eliminerò come ho fatto con Rob Secondo me oggi le prendi solo Arrivato a questo punto Non ho più speranze Ha dei poteri inimmaginabili Non mi sarei mai aspettato una cosa così Ora mi rivelarò te Io Sono Twitchman Ora ti darò una bella lezione Twitchman has no weakness Seconda lezione Twitchman has no limits Terza ed ultima lezione La gang non si infama Sergi non sa Nessuno sa che i miei poteri vanno oltre l'immaginabile Dopo anni di esperienza con i miei poteri Sono riuscito a padroneggiare il tempo a mio piacimento Infatti nel mio raggio di azione il tempo si blocca E posso fare tutto ciò che voglio Io Sono un Dio Ho scoperto il tuo segreto brutto Anche lui ha preso coscienza del suo enorme potere Anche se di gran lunga inferiore a me Lui rappresenta un problema Cazzo sono al limite Bastardo Ed ora torniamo nel mio mondo Che il tempo Si fermi Questa è l'unica cosa in grado di fermarlo E ora non abbiamo più tempo di fermarci Cazzo Ancora con questo siero Non è abbastanza per mettermi K-Ho Ma ora li lascerò andare Sennò che divertimento ci sarebbe Ma cosa hai combinato? Ve l'hai fatti scappare Ok Pazienza Non avresti dovuto fermarmi Ho portato Rova a curarsi Ti ripeto Che divertimento ci sarebbe così Io mi diverto a giocare con le mie prene Tavolta le faccio anche scappare In ogni caso ritornano sempre la mie Anche senza volere Come uno yo-yo Va bene Andiamo No Il mio compito non è ancora finito Non sono soddisfatto Addio Ricordo ancora da quando era solo un supereroe da quattro soldi Anche lui aveva commesso l'enorme errore di mettersi contro il Duce Anche lui aveva commesso l'enorme